come va oggi giaco tutto ok gerry bene sai è stato detto molto di te ma la cosa principale che la gente riconosce il fatto che sei capace di suonare in tutta sincerità ogni stile musicale cosa come sei arrivato a questo punto beh mi hanno detto sai tipo quando ero molto giovane di imparare per prima cosa era di imparare la melodia di ogni brano il che credo sia super importante sai la maggior parte dei bassisti molti musicisti cioè non solo sul basso ma sul loro particolare strumento di solito suonano solo la parte di bar la loro parte solo la parte di piano nel senso la stessa cosa per i pianisti anche loro dovrebbero sapere la parte di basso almeno sai quello che è capito ma la cosa principale è la melodia e mi sembra che apparecchi bassisti tipo gli manchi sai no eccetera ya quello ti dà il feel della canzone invece di fare così o io faccio sali più velocemente può arrivare liberamente veloce fluido ma è difficile e ti e ti insegna dove le note sono sulla tastiera devi pensare a tutte le note ok quindi gli eserciti più o meno in modo mentale nel senso di sviluppare cosa che ti fanno pensare quello è importantissimo perché così così puoi specialmente nella musica improvvisativa sai le cose dove devono andare invece di essere approssimativi o diciamo la gente muove i dita a caso conosci un paio di leaks in questo modo stiamo parlando sai di essere consapevoli grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.